Quanto mai gradito è Terramani l'incontro divulgativo con due noti sismologi dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia che ha fatto registrare il pienone al Parco della Scienza. Gli scienziati hanno fatto il punto sui risultati scientifici degli ultimi terremoti che hanno colpito il centro Italia ed hanno spiegato perché non credere ad alcune leggende metropolitane. Non c'è proprio niente che possa far prevedere un terremoto? No, fino adesso no, non ci riusciamo, non siamo abbastanza bravi, è troppo complicato e quindi la risposta è no purtroppo. Le persone credono magari che quando faccia caldo ci sia vento sia un segno? Sì, lo so, però purtroppo non è vero, nel senso che qualche volta c'è una correlazione, qualche volta non c'è ma soprattutto non c'è nessun modello fisico, non c'è nessuna legge che possa motivare queste cose, sono appunto credenze. Se posso aggiungere, sono tutto sommato dei diversivi per non affrontare il problema principale che è un altro e cioè le nostre case sono in grado di resistere al terremoto. Secondo lei è finita? No, sicuramente no, perché ogni giorno registriamo centinaia di aftershock ancora dopo il terremoto, soprattutto l'ultimo, il 30 ottobre quindi la sequenza è ancora attiva e anche oggi abbiamo avuto un terremoto di magnitudo quasi 4, andrà avanti ancora un bel po'. E al tempo stesso non possiamo escludere che come è successo già da agosto a ottobre, quindi dopo due mesi, dopo tre mesi, dopo qualche settimana non si attivi un'altra faglia, per il momento non abbiamo indizi diretti di questo. E intanto come ogni giorno arriva il quotidiano bollettino di guerra diramato dal comune di Teramo dopo le ultime verifiche fatte dalla Dicomac che nei prossimi giorni ne dovrà effettuare ancora altre 2.500. Nell'ultimo bollettino noi ci avviciniamo alle 900 persone che non hanno più un'abitazione, abbiamo 280 famiglie da cui sono state notificate l'ordinanza appunto di sgombero. Questo bollettino purtroppo peggiora ogni sera, ogni sera abbiamo il report da parte dei vigili del fuoco. La storia ricorda che Teramo è stata già colpita e danneggiata da due terremoti, quello del 1384 e quello del 1703. Gli scienziati hanno quindi consigliato che è bene iniziare a convivere con l'idea di futurisisma, adeguando però le proprie abitazioni.